Scendo, bastone, se ho il bastone bene, se non lo faccio senza ok? Farò la scuola, quello che sia, lo importante è non ballare, lo importante è farelo ok? Muovere sopra, a, 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 e, i, 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 i Se no il bastone è esattamente la stessa cosa, Billy Power si fa senza prezzi, ok? E' giusto per farmi vedere dove ci siamo tirati da scumpi per fare il prodotto Fa, movimento questo, questo, scendo e questo, quando scendo occhio ho la schiena, qui Ok? E dopo facciamo la corda come i mani, se la devo tirare in alto e indietro Senza fare questo, ma sempre qui, ok? Gambe sempre in tensione, addominali in tensione Ma dicevo Salvatore, non a te Va bene, va bene, anche Salvatore, perché no? O lo mettiamo a fare Billy Power come noi? Ok, andiamo avanti, ciao, uuuh, quanti siete? Prodi, bastone, senza bastone, non ci frega niente, lo facciamo lo stesso Non ballate, sempre fermi, lavora solo la parte sopra, ok? Ci siamo? Vai! 4, 1, 1, 2, 2, 1, 2 E la formula ta nu a scena, non ci pare? 3, 1, 1, 2, 2, 3, 1 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Guarda la schiena, guarda la tommi. No, no male lega. Eso. Vale. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì.